Numero 76, Alessandro Guglielmenti con Luca al suo fianco, sempre Guglielmenti, però quello giovane... Eh lui sì, io gli ho già passati da tre anni. Vabbè, allora, no, sai perché? Perché per il fatto che ovviamente fa parte del Test Team Italia, Test Event Giovani, capisci? Un occhio di riguardo in più, insomma, non solo per i piloti, anche per i navigatori. Allora, domani? Domani proviamo, è la prima gara dell'anno, siamo... sono fermo da sei mesi, quindi piano piano riprenderemo confidenza con la macchina che è... Sì, i Guglielmenti, il paggio numero 76, al via con questa Citroën Saxo. Sì, i Guglielmenti, il paggio numero 76, al via con questa Citroën Saxo. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.